Non c'è uno spettacolo che consiglio perché io consiglio il teatro appunto, cioè non c'è un motivo, è il teatro, per me riempie tutti i miei vuoti. Il teatro è una finestra sul mondo per quel che mi riguarda, quindi qualsiasi tipo di tema che viene trattato a teatro è sempre un modo, come dire, molto incisivo a livello rappresentativo per capire la realtà. Per me il teatro è tutto, penso che probabilmente senza il teatro non saprei come andare avanti e ti mantiene proprio in vita. Ma il teatro per me comunque è bellezza, ci sa sempre suggerire qualche spunto di riflessione importante. È qualcosa di molto vitalizzante. Cultura, assolutamente cultura. La vita, è vita. Teatro, socializzazione. Sì, ci sta bene. Stare assieme e poi scambiarsi anche le impressioni. Tutto quello che accade sul palco sia talmente unico, anche laddove si dovesse andare a rivedere uno spettacolo, che può essere solo ciò che si avvicina alla magia, insomma. Devo dire che andare a teatro è proprio una cosa che mi commuove, nel senso che è un'esperienza diversa. Io amo molto il cinema, per esempio, ci vado due volte a settimana sempre, però il teatro è proprio un'esperienza viva. anche se è un argomento ostruso, mi è capitato, di vedere delle cose che dici, però ti senti sempre partecipe. Se l'attore è bravo è proprio un'esperienza unica.